Ho deciso di montare le luci qua in negozio Considerando che non sono poi così un mago delle luci, non sta andando male Sono molto molto soddisfatto Questa è una cosa di smart antioxidante, fa cagare Stasera mi porto nel mondo del crossfit, va bene? Che bravo questo qua, è molto molto bravo Questo è un momento sexy per le nostre follower donne Guardate un po' che pezzo di manzo che ho qua Il workout di stasera è abbastanza intenso perché è soddiviso State con me Perché la maglietta è uguale alla mia? Ho la stessa nel tuo armadio Nel mio armadio non è possibile perché puzza tutto Grazie a tutti Ciao! Ciao! Questo è il video Workout per me è finito Il crossfit Questo qui silindogioni è un assaggio Che vedete direttamente qua, sul canale Rischio di rimanere senza benzina Abbiamo fatto benzina e ne siamo usciti vivi